L'amore di Anna per gli amici a quattro zampe trova spazio in un luogo che dà continuità alla sua passione per i pelosetti restituendo dignità ad un'area degradata dando un servizio alla comunità dei Picentini. Così il sindaco di Ponte Cagnano Faiano Giuseppe Lanzara inaugurando questa mattina alla presenza della famiglia Borsa un'area di sgambamento cani intitolato ad Anna. Un anno dopo l'uccisione della parrucchiera per mano del suo ex fidanzato il comune di Ponte Cagnano Faiano ha dedicato alla giovane donna uno spazio per il migliore amico dell'uomo. È stato infatti il fratello Vincenzo a chiedere al comune di realizzare un'area per i cani ai quali Anna era molto legata. Un intervento che mette insieme un po' della nostra voglia innanzitutto di riqualificare delle aree degradate del territorio. Qui abbiamo attivato appunto un intervento importante strategico per l'amministrazione di un'area di sgambamento poi inaugureremo di qui a breve anche gli orti urbani quindi con un'attenzione ancora più forte per la sostenibilità ambientale per dare la possibilità magari anche a persone pensionate di poter coltivare delle passioni e ovviamente il segnale soprattutto il giorno della festa della donna di intitolare quest'area ad Anna Borsa è un ulteriore segnale di attenzione rispetto a una vicenda drammatica che ha colpito l'intera comunità di Ponte Cagnano-Faiano quindi è la voglia di ricordare ogni giorno anche nei giorni di festa come questo appunto dell'8 marzo un evento che deve rimanere sempre indelebile nei nostri ricordi. L'inaugurazione di oggi dell'area sgambamento è solo parte di un progetto più ampio come ha dichiarato stamani il sindaco di Ponte Cagnano-Faiano Giuseppe Lanzara parlando non solo del recupero di una vicina area per gli orti urbani dedicati ai cittadini che se ne vorranno prendere cura ma anche al finanziamento di due milioni e mezzo di euro che permetterà di realizzare una casa rifugio per le donne vittime di violenza nell'ex discoteca Camino Real bene confiscato alla malavita organizzata in via Mar Mediterraneo. Ci sarà una prospettiva importante rispetto anche all'opportunità di poter fare formazione di poter creare delle condizioni di autonomia e di indipendenza da parte delle donne. Noi dobbiamo raccontare ogni volta che è necessario denunciare che non ci devono essere alibi quindi anche la preoccupazione di perdere la propria serenità familiare, indipendenza economica anche le problematiche legate all'autonomia e all'indipendenza economica delle donne devono essere risolte e l'amministrazione in questo caso il comune di Ponte Cagnano Feano vuole fare sicuramente dei passi in avanti per togliere qualsiasi tipo di alibi alla denuncia che deve partire prima possibile per evitare appunto tragedie come quelle che conosciamo. L'area dell'ex Camino Real per anni ma ancora oggi lo è rappresenta un luogo di degrado, che tempi lei si immagina affinché ci possa essere una nuova vita? Lì abbiamo due milioni e mezzo di finanziamento da parte del Ministero della Coesione Territoriale, è un finanziamento che a breve partirà perché poi sono fondi legati al PNRR quindi i tempi sono rapidissimi, sono veloci, c'è la voglia anche di insistere sull'hotel mare perché quello può rappresentare anche un elemento di turismo e di volano economico e anche quindi un'opportunità per queste donne di creare un'attività lavorativa e i tempi devono essere rapidi quindi noi immaginiamo che già a partire dal 2023 le procedure di gara possano concludersi e quindi partiamo immediatamente con la realizzazione di questo bellissimo progetto che restituirà anche dignità al territorio della Litorania perché la Litorania ha bisogno di servizi, ha bisogno di una serie di interventi che non siano soltanto quelli relativi al turismo perché bisogna puntare sulla destagionalizzazione e quindi sul rendere quel territorio vivibile 12 mesi all'anno.